Colpevole solo di giocare con gli amichetti nei pressi di una panchina a inizio del corso di Avellino. Undici anni, esile e particolarmente sensibile, era una delle sue prime uscite serali in città da solo con gli altri del gruppo. Il piccolo è stato dapprima avvicinato con tono minaccioso, poi preso a schiaffi ad aggredirlo un bullo, probabilmente di qualche anno più adulto di lui, spalleggiato da altri coetanei, che ha continuato a sferrare calce e pugni anche quando la sua fragile vittima si è accasciata al suolo. In vano, gli altri del gruppo hanno chiesto aiuto ai passanti, era sabato, intorno alle 19, quando il corso è molto affollato, ma nessuno si è fermato. Il bullo ha visto il gioco facile, ha poi estratto dal giubbotto un coltellino e gli ha passato la lama sul collo, avanti e indietro. Prima di andare via, il suo complice ha sputato in faccia a uno dei ragazzini, finite nelle grinfie del branco. Avvisati dalla telefonata di uno dei genitori dei ragazzini, intimiditi dalla baby gang, sul posto è giunta la madre del piccolo picchiato e minacciato con il coltellino, sotto a sciocca l'arrivo della donna, che è riuscita a fermare, disperata anche una volante di polizia, che transitava nella zona, ma non c'è stato niente da fare, la baby gang aveva già fatto perdere le proprie tracce. La madre del ragazzino, ostaggio del branco, ha raggiunto subito la questura per denunciare quanto accaduto. Ancora scosso e dolorante per il passaggio subito, il piccolo ha raccontato in modo dettagliato le sequenze dell'aggressione, riuscendo anche a tracciare un identikit del bullo armato di coltellino. Dalla descrizione corrisponde al ragazzino che alcune serie fa, insieme alla sua banda, ha tentato di rapinare un gruppo di adolescenti tra via Terminio e Piazza Libertà, sempre ad Avellino. Su questo caso indagano i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di video soveglianza in Piazza Libertà. La vicenda che vi abbiamo descritto ci è stata raccontata dalla madre del piccolo di 11 anni picchiato dalla baby gang. Sono trascorsi dalla sua denuncia circa 15 giorni. Gli investigatori avrebbero anche recuperato dei video dalle telecamere installate per il corso dove si è verificato l'episodio, ma almeno fino ad ora non c'è stata alcuna svolta nelle indagini. L'appello è di tenere alta l'attenzione su un'escalation di creazioni che si registra da qualche tempo in città da parte di una baby gang spavale e armata, come l'hanno testimoniato in più di un'occasione le vittime in varia del disagio. Anche gli autori di pestaggi e rapine. Si tratta di adolescenti, i genitori, aggiunge il padre di un'altra vittima, andrebbero individuati insieme a loro e avvisati dalle forze dell'ordine. Oltre a denunce e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i loro figli vanno salvati e tutelati, anche loro, dal pericolo della strada.